Recentemente l'Inter ha ricevuto buone notizie, soprattutto per quanto riguarda la situazione medica di alcuni giocatori chiave. La prima grande novità arriva dal canadese Thayon Buchanan, indisponibile per un infortunio muscolare. Secondo le informazioni della Gazzetta dello Sport, Buchanan è nelle fasi finali del recupero e, se tutto andrà come previsto, dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo durante la sosta per le nazionali. L'obiettivo è che il giocatore possa essere convocato per l'importante duello contro la Roma, in programma il 20 ottobre. Il ritorno di Buchanan è molto atteso, potrà portare ancora più forza e versatilità alla squadra guidata da Simone Inzaghi. Lascia il tuo mi piace e iscriviti al canale per altre novità sull'Inter. Oltre a Buchanan, un altro big in fase di recupero è il centrocampista Nicolò Barella. Il giocatore soffriva di un affaticamento muscolare, che lo ha tenuto fuori dalle ultime partite dell'Inter. Barella sta comunque seguendo un programma di recupero personalizzato e l'aspettativa è anche che possa rientrare dopo la sosta per le nazionali. La presenza di Barella sarà fondamentale per l'Inter, sia nel campionato italiano che nelle competizioni europee, come la Champions League. La sua capacità di controllare il centrocampo e di contribuire sia in fase difensiva che offensiva lo rendono un giocatore fondamentale per la squadra. Nel frattempo, le preoccupazioni riguardanti il capitano e capocannoniere della squadra, Lautaro Martinez, sono state ufficialmente respinte. Lautaro aveva riportato un leggero infortunio durante la partita contro la Stella Rossa, che ha suscitato un po' di timore tra staff tecnico e tifosi. L'attaccante argentino, comunque, è già tornato ad allenarsi con il resto del gruppo e, a quanto pare, è in piena forma fisica per i prossimi impegni dell'Inter. Ottima la forma di Lautaro, soprattutto dopo la brillante prestazione nella vittoria contro l'Udinese, in cui ha segnato due reti, oltre alla rete decisiva contro i serbi in Champions League. Con questi importanti ritorni l'Inter può rafforzarsi ancora di più in vista dei prossimi turni sia del campionato nazionale che delle competizioni europee. La stagione è lunga e impegnativa, ma il recupero di giocatori fondamentali, come Biucana Nebarella, oltre alla buona forma di Lautaro, dà sicuramente più fiducia alla squadra e ai tifosi. Ogni pezzo recuperato rappresenta una nuova opportunità per migliorare le prestazioni in campo e aumentare le possibilità di vincere titoli. E tu, tifoso nerazzurro, cosa ne pensi di questa bella notizia che arriva dall'infermeria? Pensi che il rientro di Biucana Nebarella possa essere decisivo per le prossime partite? E a proposito di Lautaro, come vede il momento del capitano dell'Inter? Commenta qui sotto e metti mi piace al video per altre novità sull'Inter. Forza Inter!